Ed eccoci alle 22.44 di giovedì sera, lo spazio è una questione di tempo, Einstein. Questa sera stavo guardando Rete4, ovviamente tutta la carellata dei vari TG, dei vari programmi di finanza e si delinea sempre di più quello che è un progetto prossimo da presentare in Europa al 23 di aprile per la questione Eurobond, non Eurobond, Corona Bond e quant'altro. Bene, la questione è in questi termini, ci sono delle intere categorie del nostro comparto produttivo italiano, la mia compresa, praticamente siamo degli zombie, siamo dei morti che camminano. Chi resisterà un po' di più, un po' di meno con quei quattro soldi che ha da parte, se si basa sul reddito da lavoro, e che quindi sta già sentendo le campane a morto. Cosa vuol dire? Ci sono delle attività, soprattutto quelle ricreative, sportive, di contatto, come sapete io sono uno di quelli che operano nel settore dello sport, noi produciamo manti in erba sintetica, per poi costruire campi da calcetto, dove la gente va a sopra a giocare. Tutta questa filiera verrà bombardata, verrà rasa al suolo, in quanto per motivi sanitari sarà una delle ultime cose che si potrà fare, quella di andare a giocare tutti insieme in Bermuda, maglietta a maniche corte, a pallone, stando tutti insieme con spinte, classico gioco del calcio. La Serie A si presume che possa finire il campionato a porte chiuse, in pochi, solo il personale necessario, controlli prima e dopo, igienizzazione, tamponi, controlli medici e quant'altro, tutte cose che nella attività sportiva di ricreazione sono impensabili per costi e per organizzazione. Quindi andare a giocare a pallone o fare un tuffo in piscina probabilmente sarà una delle ultime cose che si potrà fare. Quando si faranno quelle vorrà dire che possiamo andare in giro senza mascherine o si sarà trovato il virus, il bacino. Fino a quel momento questa categoria, quindi la categoria di chi? Di chi ha un terreno, ha un impianto sportivo che non lo può aprire, non lo può utilizzare, non lo può rinnovare, non lo deve rinnovare, non fa fare il progetto, quindi non lavora il geometra, non va dall'impresa costruttrice a fare un preventivo, quindi non si fanno i lavori, non si ordinano i materiali a noi aziende, non si fanno fondamentalmente i lavori. Qui non è un ristorante che tu dici c'è 100 posti, ne faccio soltanto 30, 30 persone di staff, ne lascio a casa 20, la casa integrazione, le altre 10 lavorano, il ristorante comunque apre. No, qui il banco salta. L'unica soluzione auspicabile sarebbe quella che arrivassero dal Ministero dello Sport o dalle infrastrutture dei finanziamenti per fare un po' come si era detto con le strade in questi giorni, le scuole, manutenzione, ristrutturazione e quant'altro, ma bisogna andare a finanziare i privati che sono i proprietori dei centri sportivi per fare manutenzione e costruirne dei nuovi. Se non succede questo, ci sarà un comparto, tutta la filiera dal produttore di erba sintetica, al produttore di intasi e rastomani, ai fornitori di sabbia, ai posatori, panchine, recinzioni, tabelloni elettronici, abbigliamento, bevande, alimenti, macchinette, dentro i centri sportivi, che salta, letteralmente salta. Noi siamo un lavoro stagionale. Quindi se questo video è riuscito a farlo vedere a qualcuno di politico che può prendere a cuore la questione, sarebbe cosa gradita. in quanto, parlo per me, ma rappresenta una categoria fondamentalmente. Io poi, vabbè, ho già quattro mesi di fermo in attività per questioni di salute, ma significa che se tutto va bene nell'ambito privato, ma anche quello pubblico, probabilmente, tutta la gente come me deve trovare la maniera per campare fino almeno tra un anno. Quindi quei quattro soldi che si ha da parte, a meno che non si sia ricchi o siano altri redditi dettati da patrimoni immobiliari con degli affitti e quant'altro, investimenti miliardari, le spese che si potranno fare e quindi indirettamente sarà un danno per la collettività, gente come me non potrà spendere altro che i soldi per cosa? Per pagare la bolletta del gas, della corrente e la spesa settimanale. Altro non si può permettere. ci saranno sicuramente un sacco di licenziamenti, tante piccole aziende che falliranno, non saranno in grado neanche di pagare le tasse che sono sopraggiunte se non si interviene. Quindi se conoscete qualcuno di politico che può fare qualcosa o perlomeno qualche giornalista che può fare un articolo, può sensibilizzare in qualche maniera la questione e con una visibilità vi sarei grato. Diversamente se anche voi vi trovate in questa condizione e avete dei consigli o degli scambi di idee sentiamoci. È sicuramente una situazione difficile perché qui non si tratta più di andare o non andare in vacanza. Qui si tratta di mangiare o non mangiare. È una cosa ben diversa. Ecco perché non riesco a sorridere più di tanto perché insieme a me ce ne sono tanti altri e non possiamo fare nulla. Se non interviene lo Stato prendendo a cuore task force mega manager di qua di su di giù psicologi scienziati della finanza di qua di là non c'è ancora un tavolo tecnico con i rappresentanti delle categorie. Signori buona serata. e se qualcuno è nella stessa condizione da parte mia c'è il massimo del supporto morale. Di più non si può fare.